I piedi, il ginocchio mi stese, dammi il nome e peso. E' al primo 70, più o meno. 70? Ho questa mangiata. L'agriturismo. Fammi sentire che tu sei mangiata. L'agriturismo canale. Adesso, come si chiamava? Ad Deo. Che tu sei mangiata? Come si mangiata? Perché c'è mangiata? Tutto? Su, prendo un suco di cinghiale, visto carne. Lascia questa, lascia questa. Vabbè, quando volete, io ci sono, vabbè. Lascia questa. Sette le apronte all'arrivo. Ho perso un uomo, però. Com'è? Ah, Gabriele. Gabriele, 70 kg, 7-0. Sette la piccola. Montata, partito. Vai, Robè. Italia? Eh, o cazzo. Vai, Robè. Quanto? Vai, Robè. Italia? Uno! Cosa c'è? Italia uno. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. La gente nuicy. Abbiamoin influuto.